La disuguaglianza a livello economico è uno dei temi di approfondimento della conferenza. Qui in questa sessione cerchiamo di approfondire almeno due aspetti ricorrendo a livello nazionale a dei modelli di microsimulazione dal lato delle famiglie. Ci sarà un intervento Istat che cercherà di mettere a fuoco i risultati anche contenitivi dell'allargamento delle disuguaglianze legati ai provvedimenti del governo nel corso del 2020. Così come invece l'Istituto di validazione delle politiche pubbliche di Trento ci fornirà alcune stime dell'evasione a livello disaggregato, a livello di famiglia. Gli altri interventi sono invece uno a carattere più locale perché cercheremo di capire meglio come funziona la realtà nel comune di Milano, quindi l'organizzazione dei dati per la valutazione. E l'altro intervento invece è un intervento più specifico sugli indici dei prezzi. Perché? Perché l'indice dei prezzi calcolati a livello locale e con nuove basi dati sono tra gli elementi più importanti per poi andare a misurare le disuguaglianze. Grazie. 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 Grazie.